Capita anche a te di correre dietro a sempre attività urgenti tutto il giorno per settimane, mesi, anni senza mai portare a termine le attività per te più importanti o i progetti per te più importanti? Ecco in questo video ti spiego una tecnica molto semplice e veloce da applicare che può cambiare fin da oggi le tue performance e la tua gestione del tempo. Io sono Luca Faccin di Performance PPC e in questo video andremo a vedere il sistema 4 quadranti per la gestione delle attività. Prima di partire ti invito a mettere un mi piace a questo video, questo farà sì che poi YouTube ti consigli video simili e iscriviti al nostro canale se non l'hai ancora fatto per vedere altri video sulla gestione del tempo personale e anche sul marketing e il management in generale come ci piace fare. Ma direi di partire. Bene, prima di andare a vedere come gestire le nostre attività quotidiane voglio parlarti di scopo personale Vision e Mission. Sono i nostri tre capisaldi che ci servono per definire quali sono le attività importanti e quali sono solo urgenti magari. Ecco, quindi prima di andare a organizzare il tuo tempo cerca di prenderti un po' di spazio per pensare allo scopo della tua vita. Qual è la tua missione finale? Qual è il tuo scopo? In particolare dovresti pensare alla Vision, quindi chi vuoi diventare nel lungo termine e alla Mission. Come lo vuoi fare? Cosa vuoi fare nella tua vita? Sono domande, mi rendo conto, abbastanza pesanti, importanti, che meritano del tempo e considera che non è che sia scolpito nella pietra ma nel tempo puoi sempre modificare scopo, vision, mission tua perché cambia anche tu. Quindi è un continuo lavoro di rifinitura per trovare poi la tua vera essenza. Ecco, questo è il primo passo che ti consiglio di fare e poi partiamo subito con la parte pratica. Prima di addentrarci appunto nella gestione a quattro quadranti ti invito a fare un'altra riflessione che è quella degli obiettivi. Quindi pensa ai tuoi obiettivi di vita e in particolare dividili in tre livelli. Gli obiettivi lungo termine, quindi parliamo di 20-10 anni, fasce da 20-10 anni, quindi per esempio potresti pensare che cosa voglio fare entro i 20 anni, che cosa voglio fare entro i 30 anni o che cosa voglio fare entro i 50 anni, 60 anni, 90 anni. Quindi darti degli obiettivi per queste fasce d'età. Per esempio potrebbe essere che una persona fino ai 20 anni vuole studiare, dai 20 ai 30 anni vuole imparare il lavoro nella pratica, dai 30 ai 40 vuole veramente mettere a frutto le proprie conoscenze per ottenere lo stile di vita che vuole, il compenso che vuole e dai 40 ai 50 vuole iniziare a insegnare quello che ha imparato e dai 50 in su magari vuole andare in pensione, che ne so, ok? Quindi certamente bisogna darsi una pianificazione lungo termine e iniziare a pensare a come spezzettare questa pianificazione lungo termine in obiettivi più corti, che sono gli obiettivi medio termine. Quindi qua si va a ragionare su cose sempre più concrete. Obiettivi medio termine sono quelli di 3-5 anni. Quindi che cosa voglio raggiungere io tra 3 anni, tra 5 anni? Cerchiamo di essere specifici. Dove voglio vivere? Con chi voglio vivere? Quanto voglio guadagnare? Che lavoro voglio fare? Che cosa voglio fare nella mia giornata tipo? Ok, queste sono un po' di domande che potresti farti per aiutarti a definire i tuoi obiettivi medio termine da qua a 3-5 anni, che di solito è un tempo di respiro che ti dà modo di fare delle azioni per arrivare a cose anche importanti. Voglio pesare tot chili, voglio fare una maratona, voglio ottenere quella promozione, voglio diventare un bravo videomaker, no? Roberto qua che mi sta riprendendo. Quindi bisogna cercare di andare sempre più nello specifico e dagli obiettivi medio termine passare agli obiettivi breve termine. Breve termine sono per esempio quest'anno. Io di solito faccio una pianificazione annuale a gennaio, tra le feste di Natale e i primi di gennaio, in cui mi do degli obiettivi annuali. E di solito lo faccio nella modalità minimi, probabili, ottimi. Cioè mi do degli obiettivi minimi che se non raggiungo vuol dire che c'è veramente qualcosa che non va. Degli obiettivi che probabilmente riuscirò a raggiungere e poi degli obiettivi ottimi che vanno oltre quasi quello che è raggiungibile, no? Proprio per darmi anche una prospettiva di crescita, di spinta che va oltre. Più sfidante. Ecco, quindi una volta che abbiamo definito un po' la nostra macro mappa di lungo termine, poi medio termine, cioè 3-5 anni e infine breve termine quest'anno, dovremmo avere un'idea dei progetti che dobbiamo portare a termine. Cioè se io quest'anno voglio scrivere un libro, quello è un progetto che va organizzato. Non riuscirò mai a scrivere un libro se non mi organizzo ogni settimana per avere lo spazio di scrivere quel libro, ok? Al di là del fatto che oggi potete scriverlo con chat CPT ma non vale, non vale perché poi comunque gli algoritmi se ne rendono conto, però mi capite che un progetto richiede uno spazio. Questo spazio va pianificato. Altrimenti se noi iniziamo ogni giornata facendo le solite attività urgenti, quello che ci viene richiesto, senza mai trovare spazio per i nostri progetti lungo termine, questi non li realizzeremo mai. Come si fa? Un metodo utile è quello del sistema quattro quadranti, chiamato anche la matrice Deisenhauer e spiegato nel libro di Stephen Covey le sette regole per avere successo. Uno dei primi libri di crescita personale che ho letto, dentro non parlava solo di questo, ma parlava anche appunto della programmazione delle attività mensili e settimanali. Quindi vedete che siamo passati dall'anno al mese settimana. E come si fa a programmare un mese? Come si fa a programmare una settimana lavorativa? Andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Ci vogliono delle premesse. Prima di tutto, qui stiamo già parlando di step pratici, quindi sì, sono premesse ma sono cose che dovete fare praticamente. Prima di tutto devi scrivere e classificare tutte le attività. Cosa voglio dire? Voglio dire che le attività vanno scritte, che sia in un block notice di carta o che sia in un'app sullo smartphone o che sia sulle note del computer, vanno scritte tutte, tutte e vanno classificate, classificate per importanza e urgenza. Ed è qua proprio che ci viene in aiuto la matrice che ci aiuta a classificare tutte le nostre attività. Quindi il primo consiglio è quello di elencarle tutte in un unico elenco. Dopodiché passare a dividerle in quattro classi. Le quattro classi sono quelle che vedete nello schema che sono date da questi quattro quadranti definiti da importanza e urgenza. Nell'asse verticale abbiamo l'importanza, quindi quelle sopra sono importanti, quelle sotto alla metà dello schema non sono importanti. Nell'asse orizzontale abbiamo l'urgenza, quindi quelle a sinistra sono urgenti, quelle a destra non sono urgenti. E così abbiamo i quattro quadranti. Vedete, sono numerati nel quadrante 1, quindi avremo le attività importanti e urgenti. Queste attività sono quelle da fare ora, da fare subito. Di solito sono quelle su cui tutti siamo concentrati, professionisti, imprenditori, artisti, ok, magari rilasciano da parte i loro progetti a lungo termine, perché sono sempre a fare attività urgenti, importanti. Potrei farvi degli esempi, di solito sono attività brevi, di breve durata, che poi hanno un'urgenza che può essere anche relativa, bisogna valutarla, però potrebbe essere effettivamente urgente. Mandare una fattura, fare una telefonata al commercialista, spedire quella busta, sono tutte attività di breve termine, ma che devono essere fatte nel più breve tempo possibile, perché sono importanti e è importante farlo ora. Ecco, questo è solo uno dei quattro tipi di attività, però. Poi abbiamo le attività, nel secondo quadrante, importanti ma non urgenti. Queste vanno pianificate. Ecco, questi tipi di attività sono le più importanti, in verità. E qui che vanno eleccate le attività, per esempio, come quella di scrivere un libro, no? Quindi scrivere il capitolo 1, scrivere il capitolo 2, sono pezzettini di un progetto lungo. Perché sono importanti? Perché riguardano il nostro progetto a lungo termine. Per esempio, scrivere il mio libro. Ma perché non sono urgenti? Perché non cambia niente se il libro non lo scrivo oggi, ma lo scrivo domani, no? Teoricamente non cambia niente. Cosa cambia se il capitolo 1 lo scrivo lunedì, piuttosto che alla fine della settimana, venerdì? O se il libro lo pubblico quest'anno, piuttosto che nel 2027. Stiamo parlando nel 2024, quest'anno, eh? Quindi, di fatto non c'è nessuno che ci corre dietro, per questo non sono urgenti. Ma in verità, se noi rimandiamo sempre a queste attività, cioè procrastiniamo continuamente, succede qualcosa di molto grave. che i nostri progetti più importanti non si realizzano. Ecco perché queste attività vanno pianificate nel calendario. Poi abbiamo gli altri due quadranti, che sono meno importanti, per certi versi, che sono il quadrante 3, delle attività che sono urgenti, ma non importanti. E queste attività noi consigliamo di delegarle. Ossia, devo... Vediamo se mi vengono degli esempi, anche qua. Dipende un po' da quello che fate, però per esempio io, se devo inviare una fattura, è una cosa urgente, ma non è importante che la faccia io. Quindi la farò fare all'impiegata che invia la fattura. C'è da chiamare un fornitore per ricordargli che deve produrci quel determinato servizio. È urgente, però non è importante che lo faccia io. Posso delegarlo, magari. Ecco, magari qui cerchiamo di mettere tutte le attività che in effetti dobbiamo fare urgentemente, ma fermiamoci un attimo e pensiamo, posso farle fare a qualcun altro? Tanti imprenditori non pensano a questa cosa e tendono a voler fare tutto da sé. Su questo posso consigliarvi un libro che è 4 hour week, 4 ore, non so in italiano come si è tradotto, 4 ore a settimana, che spiega come lavorare 4 ore a settimana, per modo di dire, proprio delegando tante attività. Ok. Ultimo quadrante sono le attività non urgenti, non importanti e che consigliamo di saltare, eliminare. Potrebbero essere andare al bar tutte le sere a giocare a freccette, che ne so. Magari per voi è importante perché vi svaga, quindi non riguarda queste attività. Però magari invece se ci pensate dite ma in verità vado per abitudini, ma non è una cosa che è importante fare, non è una cosa urgente. Guardare il telegiornale la sera magari non è un'attività né urgente né importante. Potrei anche saltarla e dedicare quel tempo a delle attività più profittevoli. Quindi ci sono tante attività anche che su Quadrante 4 che sono da rimandare magari noi diciamo un giorno forse lo farò. Non è un'attività né da fare subito né da pianificare. La metto da parte e la lascio là. Oppure sono proprio attività da eliminare. Non lo so, per esempio fumare tutti i giorni due pacchetti di sigarette. Ecco, magari è un'attività che se elimino risparmio soldi, tempo per andare a comprarla e tutto quanto. Quindi fa parte del Quadrante 4. Bene, fatta questa premessa poi dei Quadranti ci sono tanti video che ne parlano. A me interessa farvi vedere come metterli poi a calendario. Ok, quindi andiamo subito a bomba. Qui c'è uno schema che vi può aiutare a classificare ogni attività. Cioè, quando vi arriva un'attività da fare che sia venuta fuori per conto vostro, da una vostra idea o che sia venuta dall'esterno qualcuno che vi dà qualcosa da fare, dovreste ragionare seguendo questo schema. quindi la prima cosa da chiedervi è se l'attività è fattibile e se ha senso farla subito. Se la risposta è no la mettiamo subito nel Quadrante 4 nella lista del un giorno magari. Ok, potrebbe essere per esempio aprire una gelateria nel mio paese. È fattibile? Non adesso. Ok, la metto nel Quadrante 4. Poi, se invece l'attività è fattibile dobbiamo pensare se è composta da un'azione o più azioni. Se è composta da più azioni cioè maggiore di un'azione quindi per esempio scrivere un libro non è un'azione cioè non è che lo scrivete tutto in un fiato è composto da molte azioni perché prima dovete pensare al titolo poi allo schema poi farvi una mappa mentale poi scrivere uno schema più dettagliato dei capitoli magari poi riempire il primo capitolo poi il secondo poi il terzo poi fare la revisione poi la copertina poi le pubblicazioni sono tante attività capite quindi questo è un progetto quindi se è maggiore di un'azione vado su progetti se invece un'azione cioè una cosa che ha inizio una fine quindi per esempio scrivere una mail per vendere il mio servizio alla mia lista email è un'azione che ha un inizio una fine e posso fare tutto in un colpo allora vado avanti nel mio schema e penso è un'azione che dura meno di 5 minuti o è un'azione che dura più di 5 minuti se è un'azione che dura meno di 5 minuti la metto nel quadrante 1 cioè fallo subito in questo quadrante che è sostanzialmente una checklist di attività metterò tutte le attività Q1 quindi quadrante 1 importante urgenti in ordine di priorità quindi non vuol dire che l'ultima che mi assegnano è la prima che vedo ma vado a metterla in priorità con le altre questo è importantissimo se invece l'attività è maggiore di 5 minuti a questo punto faccio delega oppure la calendarizzo cioè o la metto nel quadrante 2 delle cose importanti ma non urgenti perché è troppo lunga non posso fermare la mia giornata per fare un'ora scrivere una mail di vendita per i miei clienti è una cosa che devo pianificare oppure devo delegare se la delego vuol dire la metto nel quadrante 3 per esempio la faccio scrivere a un copywriter un freelance che trovo su internet magari io quando la delego devo stare attento che venga eseguita quindi delega e attendi e controlla che venga eseguita gli stessi progetti vedete qui quando ho tante attività per esempio quindi scrivere un libro diventerà un progetto vengono suddivisi poi con la vostra organizzazione in piccole attività e ogni singola attività viene mandata o in calendario per farla noi o delegata per esempio tornando sull'esempio del libro scrivere un libro è un progetto di più attività però ogni attività la posso fare io quindi per esempio lo schema del libro lo faccio io scrivere capitolo 1 lo faccio io e altre attività le delego per esempio inventarmi il titolo potrei delegarlo fare la copertina potrei delegarlo pubblicare il libro potrei delegarlo questo quindi è uno schema che vi aiuta molto a capire dove mettere le varie attività adesso andiamo a vedere però come metterle in calendario allora l'applicazione che vi consiglio è google calendar andiamo su google calendar possiamo abbiamo sia il calendario che delle liste di attività possiamo crearci le attività quadrante 1 quadrante 2 quadrante 3 quadrante 4 queste sono liste di attività quindi creiamo delle liste di task e andiamo a riempirle con le attività che abbiamo appena selezionato una volta che avremo le quattro liste la lista del quadrante 1 quadrante 2 quadrante 3 quadrante 4 andremo a metterle in calendario quindi metti in sprint settimanali le attività Q2 ricorrenti e non ricorrenti che cosa vuol dire vuol dire che io faccio una pianificazione di solito la domenica per tutta la settimana a seguire quindi mi metto lì la domenica mattina vedete dalle 9 alle 10 pianificazione della settimana che arriva apro la mia lista Q2 quindi delle attività importanti e non urgenti e vado a selezionarne un tot di queste prime attività che chiamerò sprint cioè sono quelle che andrò a fare nella settimana che sta arrivando quindi ne prendo le prime 5 6 10 dipende da quanto sono impegnative queste cose quanto tempo avete voi e le metto da fare settimana prossima a questo punto io le prendo da questo sprint che poi ho diviso per ruoli lasciate stare voi tenetela semplice avete un elenco di attività vado a prendere queste attività e le metto nel calendario occupando gli spazi quegli spazi sono blendati sono dedicati alle attività Q2 quindi se qualcuno mi chiede di fare qualcosa di urgente in quell'orario io non posso farlo perché devo fare le attività Q2 non è urgente ma se non la faccio il mio progetto non si realizzerà mai quindi è importante che rispettiamo gli spazi che ci diamo ecco perché primo allora se siete dipendenti quindi il vostro tempo viene controllato da altri magari mettete queste attività nei tempi vostri quindi la mattina presto o la sera tardi io l'ho fatto per anni se invece siete imprenditori professionisti pensateci bene a qual è il vostro spazio più produttivo io per esempio le metto alla mattina infatti c'è anche una tecnica che insegna a mettere le attività in base alla loro natura in diverse fasce orarie per esempio nella prima fascia della mattina noi lo chiamiamo me time metto le attività più importanti per me per esempio scrivere il libro nella seconda parte della mattinata fino al primo pomeriggio noi lo chiamiamo make time cioè il tempo di lavoro è il tempo dove siamo anche più produttivi e lì facciamo le attività per il nostro lavoro quindi potrebbero essere per i nostri clienti e infine l'ultima parte del pomeriggio magari abbiamo meno energie siamo meno concentrati lo dedichiamo a parlare con gli altri interfacciarci con il team con i fornitori con i clienti lo chiamiamo meet time questo è uno schema che può aiutare per chi può applicarlo io ho la fortuna di applicarlo da anni e potermi gestire le attività e questo mi ha aiutato molto a velocizzare e applicato vi dà sicuramente modo di essere molto più produttivi c'è da dire una cosa prima di andare avanti questo è un sistema che cresce nel tempo migliora sempre di più cioè voi all'inizio partirete che state facendo quasi solo attività Q1 importanti e urgenti nel momento in cui iniziate a smaltire l'attività Q2 diventeranno sempre di più gli spazi nel vostro calendario dedicati ad attività importanti e sempre meno quelle urgenti perché perché tra le attività Q2 probabilmente ci sarà molta delega molto insegnamento agli altri questo fa sì che voi delegando agli altri andate a ridurre le attività Q1 e quindi avete sempre meno urgenze mentre andrete ad aumentare nel tempo sempre di più le attività Q2 che faranno sì che ancora diminuiscano le attività importanti urgenti di tutti i giorni ma che diciamo possiate dedicare più tempo alle attività Q2 io per esempio oggi posso dedicare tutte le mattinate che voglio alle attività Q2 non ho urgenze devo sentire il mio team i collaboratori al pomeriggio ma la mattina ho creato un sistema di asset miei che mi hanno permesso di vivere di quello che ho creato in passato quindi ho creato corsi ho creato aziende ho creato libri che mi danno modo di liberare il mio tempo mi spiego quindi se seguite questo sistema avrete sempre più tempo libero che potrete dedicare attività più importanti che vi daranno sempre più tempo libero ok questo è il concetto fondamentale andiamo avanti veloce perché questo video se no diventa lunghissimo giusto Roberto non so quanti minuti siamo lascia tutto non tagliare che mi piace un po' così informale e un'altra cosa importante dopo che avete messo nel calendario le attività Q2 dovete sempre considerare di lasciare tanti spazi bianchi liberi quindi cercate di magari metterne una al giorno una ogni due giorni di attività Q2 importante in modo da avere tanto spazio libero perché all'inizio soprattutto è inevitabile che abbiate le attività Q1 cioè quelle urgenti importanti quelle che vi interrompono che vi stressano ecco quelle vanno messe negli spazi bianchi tra le attività Q2 quindi diventa fondamentale prevedere questi spazi bianchi e considerate sempre anche che l'essere umano fa delle approssimazioni sbagliate cioè se noi pensiamo di impiegare un'ora per fare un lavoro probabilmente ci vorranno due ore e mezza considerate questo quando fate la vostra programmazione comunque l'importante è che vi dovreste trovare con un calendario per esempio le mie attività Q2 sono queste verdi che vedete dove ci sono delle attività Q2 verdi che sono ricorrenti altre che metto durante la pianificazione settimanale e poi tanto spazio bianco che andrò a riempire con le cose urgenti che ogni giorno verranno fuori eccole qua per esempio queste cose urgenti saranno chiamare la banca leggere le mail di Franco comprare i libri della scuola mandare una fattura ecco questo è il mio elenco Q1 che vado ad aggiornare giornalmente io di solito qui tiro una linea e dico entro oggi devo fare queste cose ogni giorno le completo e il giorno dopo parto con altre e di solito questa è una pianificazione che mi faccio la mattina presto tutte le mattine quindi io tutti i giorni alla fine avrò da ceccare cioè segnare come fatto una serie di attività Q1 cioè importanti urgenti di breve durata e magari una o due attività Q2 che sono quelle importanti non urgenti ogni giorno vado a completarle se non ci riesco dovrò diciamo spostarmi il giorno dopo però capite che la pianificazione inizia a scoricolare vedrete che ai primi tempi magari non ce la fate a fare tutto dopo di che prenderete le misure riuscirete a pianificarvi molto bene le giornate infine devo verificare le attività Q3 che ho delegato ricordo Q3 vuol dire urgenti non importanti quindi le ho delegate a qualcuno ma devo verificare che siano fatte e lasciare perdere le attività Q4 questo è un po' quello che faccio ogni giorno quindi riassumendo i quattro step definisci il tuo scopo la vision la mission secondo step definisci i tuoi obiettivi di lungo medio e breve termine terzo step scrivi e classifica tutte le attività secondo i quattro quadranti quarto step organizzati settimanalmente e giornalmente per avere un elenco chiaro di attività da fare questo è molto utile anche per liberarti la mente perché quando noi dobbiamo ricordarci a mente le cose primo sbagliamo secondo non ce lo ricordiamo siamo di computer e terzo siamo molto più stressati nel tenereci a mente le cose mentre io stacco la sera tanto so che il giorno dopo ho già un elenco delle attività importanti che devo fare per arrivare ai miei obiettivi di medio e lungo termine quindi spero questo video vi sia piaciuto sia utile che lo applicate scrivetemi se state già applicando queste tecniche se applicate altre tecniche o come vi state trovando nell'utilizzare questa metodologia che vi ho insegnato poi mi piace sempre citare in fondo ricordati di lavorare duro ma divertirti anche alla grande è così che secondo me la vita va vissuta ok non bisogna essere come dire lisi un po' annoiati ma bisogna lavorare bene e divertirsi alla grande bene ci vediamo nel prossimo video mi raccomando continua a seguirci iscriviti al canale metti mi piace fai tutte queste cose che vanno fatte nei video youtube ci vediamo alla prossima ciao ciao